Allora, dicevo, è difficile collocare sotto il profilo disciplinare Laura Marchetti, che è antropologa, ma anche pedagogista, filosofa, ecologa e tante cose insieme. Io la considero, lo dico senza, diciamo, senza false modesti, è uno degli elementi più eterodossi e originali che abbiamo in Italia. Laura è stata molto attiva sul piano civile e politico, ha militato con i Verdi, ha militato e milita ancora nei movimenti femministi, è stata sottosegretaria all'ambiente nel secondo governo Prodi e fa parte attualmente di un comitato, di un collegio di saggi che stanno realizzando, a partire dalla regione Puglia, un percorso turistico e culturale dei sentieri della fiabba. E insieme all'enciclopedia italiana sta cercando di inserire nella lista dei beni materiali dell'umanità dell'UNESCO la fiabba popolare. La fiabba popolare. Avete visto, vi ho fornito un breve saggio della, non tanto della quantità, ma della varietà dei suoi scritti, delle sue pubblicazioni, inviando, sì, inviandomi anche alcuni PDF che potete con calma studiare. Bene, io finisco qui ricordando che la lezione di Laura ha per titolo Ecologia popolare, eco-marxismo, eco-feminismo. Immagino che il titolo, già il titolo susciterà curiosità, non ci resta che ascoltarla. Grazie Laura, vai. Grazie Piero caro, maestro caro, se è ancora possibile usare questa parola. Grazie soprattutto per l'attributo di indisciplinata, che mi piace molto. Un saluto a tutti. Devo dire, sono abbastanza emozionata per il valore e l'importanza di questa scuola. Non mi capita spesso. Allora, prima di entrare nella declinazione delle tre espressioni proposte, una piccola premessa, e cioè proprio sull'ecologia. Io intendo l'ecologia come non una, scusatemi l'inglese della Murgia, Shell of Ecology, ma come una Deep Ecology, secondo l'indicazione di un classico della questione, che è il celebre articolo di Arne Naes, in cui faceva la distinzione fra un'ecologia di superficie e che si pone come per mitigazioni o piccoli aggiustamenti all'interno del sistema, che so, facciamo bene la raccolta differenziata, portiamo i ragazzi a fare visite guidate, facciamo un corretto piano dei rifiuti, tutte cose buonissime ovviamente, e invece, oltre a un'ecologia di superficie che è praticata anche da molte associazioni ambientaliste italiane ed europee, e invece, contrapponendole, una Deep Ecology, una ecologia profonda che si pone l'arrogante compito del cambiamento del mondo, cioè di essere un nuovo paradigma con una visione alternativa complessiva che va da una nuova idea della natura complessa a una nuova epistemologia, ovviamente a una nuova economia, ma anche a una nuova pedagogia, a una nuova ontologia, a una nuova antropologia, stili di vita nuovi, forme nuove dei consumi, e soprattutto una nuova politica. Ecco, io non posso qui ovviamente parlare dei vari campi in cui l'ecologia profonda può produrre un mondo nuovo, un mondo possibile. In particolare, il mio interesse in questi anni è stato riguardato la rivoluzione epistemologica che l'ecologia ha comportato, soprattutto legandosi al pensiero della complessità, bella parola femminile, il complexus, come ricorda Moren, che è uno degli autori della complessità, era il tessuto, in latino il tessuto fatto di tanti figli che diventavano uno, esattamente come la nuova enciclopedia delle scienze, non separate, ma appunto in tessute, intrecciate. Un po' il lavoro che stiamo facendo, grazie a Piero da anni con Officina dei Saperi, quindi non potrò approfondire questo campo, ma appunto l'ecologia politica, sperando anche, in maniera nemmeno sotterranea, che questa idea, in maniera appunto, intendendola come Bertanschauung, possa essere adottata da una nuova formazione politica della sinistra radicale. Partirò, queste tre parole, ecologia, popolare, eco-marxismo e eco-femminismo, le ho scelte come parole di contrasto politico con quelli che secondo me sono i mali del mondo. Ecco, gli orrori del mondo. Il colonialismo, nel primo caso, il capitalismo, nel secondo caso, e il patriarcato, nel terzo caso. E comincerò dall'ecologia popolare, perché forse commettendo qualche errore storico, ritengo che proprio il colonialismo sia il fondamento del male. che se il capitalismo ha unghie e artigli insanguinati, queste unghie e questi artigli insanguinati poggiano però su una cosa più antica e più profonda che è proprio il colonialismo. Lo dice un autore del rimorso occidentale che è Claude Lévi-Strauss in quel meraviglioso libro che è Tristi tropici, come tante parti del mondo, intristite dal colonialismo appunto, in cui dice che il colonialismo è una malattia tipica, una malattia la definisce, dell'Occidente, una malattia terribile perché è fatta da un impasto di antropofagia e antroponemia, cioè da un mangiare e una forma tremenda di cannibalismo, dice Lévi-Strauss, che consiste nel mangiare l'altro, la diversità, i dannati della terra, i popoli dannati, i popoli messi ai margini, oppure di assimilarli nel suo modello occidentalista, altra maniera di dire lo sviluppo, lo sviluppo, ma lo dirà anche Latouche, non è che ha un altro modo per dire l'occidentalizzazione del mondo, la colonizzazione del mondo, quindi o di distruggerli con una forma feroce di cannibalismo, oppure di introiettarli, assimilarli, ridurli immagini di sé. Ed è questa la forma del colonialismo culturale che è, diciamo, la forma egemone in questi ultimi anni. Ora, il colonialismo si è manifestato nell'ultimo trentennio soprattutto nella forma dell'eco-colonialismo e ha, diciamo, messo la sua mano feroce anche sulla natura. Rispetto a questo c'è stata una risposta forte dell'ecologia popolare. Ora, noi siamo forse più abituati a declinare questo termine ecologia popolare nelle nostre realtà occidentali metropolitane. Per esempio, l'ecologia popolare è stata al centro del dibattito francese a seguito dei tumulti, delle proteste dei gilet gialli. Lì, in Francia, si è aperto un dibattito molto forte. Fra l'altro ha partecipato anche Macron intendendo l'ecologia popolare come un'ecologia populista, cioè con il fatto che dovesse far digerire le misure sulle cosiddette ecotasse che poi non erano ecotasse con una forma di partecipazione popolare. Però anche a sinistra questo dibattito ha coinvolto una serie di intellettuali e di associazioni e per sottolineare come il dilemma di fronte a cui sempre ci troviamo e che è anche un dilemma di casa nostra, di casa mia in particolare, dove è ancora pendente la questione dell'ILVA, il dilemma se l'ecologia sia una questione dei ricchi, sia l'ecologia dei ricchi che si possono permettere consumi, aria pulita, consumi biologici, appunto, e che si possono permettere anche di pagare le tasse dovute alla ristrutturazione legata ai cambiamenti climatici. Naturalmente da questo dibattito ne sono usciti bene le nostre sorelle e fratelli dell'ANUPES che invece declinano anche nel titolo, anche nel nome, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale che intendono invece l'ecologia popolare non in forma populista ma come l'ecologia dei poveri e dei dannati della corsa. e uno dei libri che ha sostenuto questa idea è di un di un anziano professore straordinario professore spagnolo adesso è del 39 Martini Salier che ha scritto già nel 1987 il libro Cardine dell'ecologia popolare che in scusate nel 2002 tradotto in Italia nel 2009 che si chiama l'ecologia dei poveri in cui intanto ha ricostruito è un economista ha ricostruito una serie di disastri anche economici nei paesi soprattutto nei paesi colonizzati dalla Francia e dalla Spagna attraverso l'appropriazione delle risorse naturali è una storia che comincia addirittura con la conquista dell'America e ha lavorato molto in Ecuador in Peru in anche a Cuba in moltissimi paesi dell'America Latina analizzando i disastri di lunga durata del già del primo colonialismo e ha continuato con l'analisi dei disastri di lunga durata del secondo colonialismo ora questo questa analisi ha fatto anche ha collaborato anche a un documento internazionale che secondo me è uno dei più eticamente politicamente più avanzati un documento voluto dall'UNESCO che è la Carta della Terra la Carta della Terra è stata scritta in risposta ai problemi e agli imbrogli agli imbrogli coloniali costruiti da due vertici della Terra il vertice di Rio sullo sviluppo sostenibile e il secondo vertice a cui ho avuto la fortuna di partecipare come rappresentanza del forum ambientalista che è stato il vertice sudafricano a Johannesburg nel 2002 qual era il trucco denunciato da autori come Wolfgang Sachs come il nostro Serge Latouche il nostro perché ha fatto tante cose con Piero continua a fare l'idea che dietro i buoni propositi del vertice di Rio e cioè quelli di conservare il pianeta massacrato di conservarlo per le generazioni future ci fosse invece la preoccupazione di conservare il capitalismo cioè la preoccupazione di conservare quelle risorse uso questa parola perché usando questa parola il vertice faceva entrare gli elementi della natura l'acqua la terra eccetera i geni i semi nel nel linguaggio economicistico risorsa significa qualcosa che ha valore per altri non per sé e quindi usava gli elementi della natura come risorse per il perturare dello sviluppo capitalistico stesso ai danni di chi? Ai danni dei popoli più sfortunati del mondo e quindi con il vertice di Rio e poi anche col vertice di Johannesburg si apriva una nuova fase del capitalismo in cui diventavano materia diciamo trattabile per il cannibalismo capitalista appunto l'acqua la terra che già diciamo è stata ha inaugurato la cui privatizzazione ha inaugurato poi il capitalismo con Enclosius ma anche una una materia inedita la biodiversità i semi i geni l'aria uno dei meccanismi del colonialismo più aggressivo è stato proprio il protocollo di Chioto in cui si si comprava dai paesi non inquinati la possibilità di aria come nel film di Martone si compravano quote di aria per permettere ai paesi inquinatori di continuare a inquinare con la logica del chinquina paga paga un po' poi continua a inquinare come si può al vertice di Johannesburg invece questo imbroglio che anche è stato in parte disvelato e accanto al vertice di Johannesburg c'è stato un altro vertice un controvertice che poi è culminato con una straordinaria marcia ad Alexandra Alexandra credo che se si va ad Alexandra che è un quartiere di Nairobi si vede si diventa ecologista si diventa ecologista automaticamente perché è un quartiere terribile dove la gente vive milioni di persone vivono l'inferno della terra come ha detto padre Zanotelli dove milioni di persone vivono mangiando i propri escrementi nelle bidonville di fronte invece a una città Johannesburg il centro della città che invece è diciamo una città per super ricchi dove le vetrine spongono diamanti ecco i popoli della terra lì si videro nel controvertice centinaia di organizzazioni io ho conosciuto persone straordinarie come Desmond Tutu Rigoberta Menciuno e posero le basi di una carta dei diritti della natura dei popoli della terra fra l'altro introducendo una nuova forma di diritto ecologico il diritto delle comunità che si contrapponeva ai diritti dello Stato che poi hanno portato l'elaborazione appunto della carta della terra e i principi della carta della terra sottolineati in una nella presentazione nell'articolo 1 nella presentazione all'UNESCO nel 2000 sono i principi della interdipendenza di tutti i popoli del mondo e soprattutto il principio che la storia del mondo non è una storia gerarchica perché tutti i popoli del mondo anche i popoli che che l'occidentalismo ha bollato come popoli senza storia o fuori della storia hanno partecipato a questa costruzione che che è una costruzione poi insieme naturale e sociale la ispira il naturalmente la ispirazione della carta è anticapitalista all'Ie ha contribuito e all'Ie è stato e vengo al secondo punto uno dei fautori del movimento dell'ecomarxismo anche qui questa parola è diventata diciamo entrata nel linguaggio politico grazie a un libro di un autore che in Italia era noto come l'autore che è James O'Connor un economista statunitense noto per il libro La crisi fiscale dello Stato che nel 1987 però pubblicò un libro molto importante che Capitalismo Natura Socialismo che in Italia poi è stato tradotto dalla nostra Giovanna Ricoveri come l'ecomarxismo e su cui poi è stata fatta anche un'importante rivista che ha declinato i temi dell'ecomarxismo e allì ha in Spagna ha fondato una rivista che si rifaceva alle tematiche di O'Connor chiamata Ecologia Politica qual'era diciamo l'idea di O'Connor che rispetto alle nuove forme di crisi del capitalismo e rispetto al fatto che appunto il capitalismo non poggia più la sua il suo farsi profitto solo sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma anche e forse soprattutto ecco dico forse perché questa è la parola che apre un dibattito politico e forse soprattutto anche sullo sfruttamento delle risorse naturali ripeto intendo per risorse naturali quelle tradizionali la terra e l'acqua ma anche le nuove l'aria i semi i geni la biodiversità rispetto a questo ci vuole una adeguazione una rilettura dell'analisi marxista che per molti versi non è all'altezza della nuova crisi ed è un libro anche ottimista diciamo è un po' frettoloso nell'analisi del pensiero di Marx perché c'è tutta una prima parte del libro in cui elenca i mali di incomprensione del marxismo rispetto alla nuova realtà che a mio parere però sono mali che non si riscontrano nei testi di Marx ma piuttosto nella tradizione marxista perché poi se si rilegge Marx ma anche Engels ma soprattutto il Marx dei manoscritti si trovano lì in quel libro meraviglioso che sono appunto i manoscritti di Marx forme di umanismo naturalistico che possono far pensare a Marx come un precursore del pensiero ecologico però la seconda diciamo parte del libro è ottimista perché sostiene che sempre prendendo a parametro la crisi che il capitalismo crollerà e crollerà perché non per la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto di Marx cioè non perché il suo limite è nell'umanità ma perché il suo limite è nella natura la quale appunto non è infinita non è esauribile era un'analisi che è stata molto utile appunto al protocollo di Crioto che di fronte all'idea che il capitalismo potesse crollare per l'esaurimento delle risorse si è blindato con appunto la sioma del del protocollo del vertice della conferenza di Rio che invece limitava l'uso delle risorse per consentire la propria conservazione il problema però posto da O'Connor rimane aperto sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista delle lotte è noto non mi dilungo come ci sia un conflitto non chiuso fra diciamo così gli operai e gli ecologisti è il conflitto che ancora rende irrisolta la questione dell'ILVA ma anche dal punto di vista teorico si aprono si apre una può essere fecondo il colloquio ma certe volte sembra un dialogo fra sordi perché il marxismo non marx ma soprattutto la tradizione marxista pur nella identica strada che l'ecologia popolare e il marxismo stesso pone nella battaglia anticapitalista lascia delle differenze che forse sembrano insormontabili la prima è nella concezione ontologica cioè nell'idea di che cos'è la natura umana e se esiste una natura umana e perché il marxismo spesso invece ha declinato l'idea che la natura umana non esista ma esiste la storia umana e che non c'è una biologia insomma diciamo questo ha provocato anche un conflitto non solo con l'ecologia ma anche con altre scienze con l'antropologia per esempio con la psicanalisi l'idea che l'uomo sia solo storia contraddice l'idea che ci siano istinti che ci siano funzioni che ci siano archetipi che ci sia un'animalità dell'essere umano che non può essere governata o non può essere educata o non può essere storicizzata e la seconda idea che sembra contraddire che sembra porre ostacoli all'ecomarxismo che ripeto può essere una strada formidabile per la battaglia anticapitalista e il giudizio forse ottimista del marxismo forse troppo ottimista sulla tecnologia e sulla scienza è il frammento del capitale sulle macchine ma non solo un'idea questa sì molto occidentalista dell'uomo fabbro che non è solo l'uomo di marmo dei cartelloni diciamo che riempivano le strade della Russia di Stakanov ma è proprio dell'uomo che è fabbricatore cioè che l'uomo un'idea che stranamente riprende anche l'idea ebraica che questo creato questa natura sia stata data all'uomo perché l'uomo la trasformi sempre e comunque ed è un'idea fortemente anti-ecologica perché invece l'ecologia profonda insiste su un'idea che poi era l'idea dei poeti romantici che certe volte la rosa può fiorire senza un perché che la rosa non necessariamente deve servire a fare i profumi o a incantare con la sua bellezza le case degli umani cioè che la natura e qui ritorno non è necessariamente una risorsa che l'impegno trasformativo tecnologico o del lavoro dell'uomo deve manipolare cambiare non necessariamente distruggere ma appunto elaborare e lavorare che la natura possa avere un valore intrinseco come dice Arrenais insomma una sorta di diritto all'infunzionalità della natura quindi anche degli esseri umani che è il principio dell'ecologia e che invece sembra contraddire questa iubris lavorativa del pensiero non marxista non di Marx ma forse del pensiero marxista inoltre un'altra delle contraddizioni sembra quella del soggetto rivoluzionario ed è uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare perché se nel mondo se per il marxismo il soggetto rivoluzionario è l'operaio dell'industria e dell'industria occidentale dell'industria europea poi sostanzialmente la rivoluzione come rivoluzione europea o rivoluzione dei paesi industrializzati e perché colleziona le corbe di merendine sparite nella nella idea ecologista i soggetti cioè la composizione di classe è molto più ampia i soggetti sono vari possono andare dalle mamme che si battono per una per conservare gli alberi nell'asilo nido a chi fa le lotte per un inceneritore a chi localmente difende il proprio territorio a chi ama gli animali a chi fa un orto un orto collettivo sono soggetti che per l'ecologismo vengono percepiti come soggetti antagonisti spesso conciliare in una nuova composizione di classe risulta difficile inoltre un un'altra dei un altro degli elementi di differenza che su cui dovremmo potremmo dovremmo approfondire potremmo lavorare e locale globale e qui sul locale globale e forse il terreno di differenze e di scontro più complicato la visione del marxismo semplifico banalizzo è una visione cosmopolita internazionale globale la visione dell'ecologia è anche una visione globale perché siamo tutti interdipendenti su questa terra perché c'è un'unità dei viventi eccetera però è anche una visione profondamente legata ai territori alle comunità ai beni comuni delle comunità questo ha portato per esempio all'interno dei verdi italiani a una serie di discussioni sulle forme amministrative io ricordo alcuni dirigenti verdi ma questo anche molti dirigenti dei grunen tedeschi che recitavano questo slogan la natura non è federalista cioè la natura non può pensare delle unità amministrative che corrispondono a formazioni politiche che nei diversi stati comunque si frammentano in stati o regioni o province perché di chi è un fiume a chi appartiene un fiume a chi appartiene una montagna il Po di quale paese di quale regione è allora l'ottica ecologica ci costringe a ripensare anche un'organizzazione dello Stato diversa un'organizzazione appunto in sintonia con la natura ho ancora 20 minuti l'ultimo punto riguarda e naturalmente quello che mi è più caro riguarda l'ecofemminismo allora il colonialismo e il capitalismo sono ovviamente collegati il capitalismo è il braccio armato del colonialismo il colonialismo il suo risvolto più profondamente non etico anche perché il colonialismo porta con sé il razzismo ma a tenerli insieme c'è un ulteriore collante che è il patriarcato e proprio contro il patriarcato si rivolge l'elaborazione ecofeminista anche qui mi mi soffermo su alcuni libri prima di entrare nel merito della questione la ecofeminismo fra l'altro in Italia ecco è ritornato diciamo questo tema con grande forza grazie alla pubblicazione tardiva di un libro di François Dubon un libro che è uscito nel 1974 ma è stato pubblicato a maggio di quest'anno in Italia si chiama Il femminismo la morte il manifesto dell'ecofeminismo ed è un po' il cuore della tematica femminista però nel 2018 è stato pubblicato anche un altro importante libro grazie alla Marco Min e a Laura Cima l'ecofeminismo in Italia le radici di una rivoluzione necessaria Laura Cima è anche ispiratrice di un con Pinuccia Montanari ci sono anche io insomma 35 donne che durante la campagna elettorale quest'anno hanno pubblicato un manifesto ecofeminismo e sostenibilità che rivolgeva alle candidate e i candidati una richiesta di impegno su dieci punti dieci punti per una società sostenibile non per uno sviluppo sostenibile per una società sostenibile ma qual è il cuore filosofico e teorico dell'ecofeminismo che c'è una storia comune fra l'oppressione della donna e l'oppressione della natura e che lo stesso gesto di violenza in questo il patriarcato è ancora più antico del colonialismo e del capitalismo perché nasce con la rivoluzione agricola cioè nasce nel momento in cui l'uomo penetra nella terra esattamente come penetra poi nella donna che da quel momento diventa materia materia brutta ecco il patriarcato si fonda su questa idea che gerarchica che la donna essendo natura è un essere diciamo di serie B e quindi o comunque è un essere che come dice la parola stessa donna va confinata nel luogo della casa per amministrare le risorse i cibi tessere la tela cucinare eccetera mentre il luogo pubblico la piazza la filosofia la cosmologia la religione sono attività dell'uomo meglio se padre il quale consegna i segreti del suo potere potere e sapere al figlio al proprio figlio maschio fatto a sua immagine e somiglianza ora rispetto a questa equazione donna natura che ha diciamo reso terribile la vita di milioni di donne si è opposto negli anni sessanta il femminismo umanistico con un grande libro che è il secondo sesso di Simone de Beauvoir tutto il libro della de Beauvoir cercava di sottolineare cercava di sganciare ecco diciamo in una frase si può riassumere così la biologia non è il nostro destino cioè cercava di sganciare la naturalità che veniva attribuita dalla donna dalla donna la quale invece è un essere storico e sociale e quindi diciamo non è più un secondo sesso ma è un sesso paritario ora questo femminismo umanistico che ha avuto tanti meriti è stato contraddetto appunto dal da da una da grandi precursori da donne che hanno anticipato l'attuale ecofeminismo penso per esempio all'Usa Lomè la quale già in un testo dei primi del novecento invece prendeva rovesciava la sfida e diceva che questa equazione femminilità naturalità è un fatto progressivo perché è fondatore del materialismo ecco il materialismo è una parola bellissima ed è una parola femminile viene da mater e viene anche da materia e la stessa Salomè anticipatrice del femminismo raccomandava alle donne già all'inizio del novecento di non essere femministe in gilet ne troviamo tante di femministe in gilet quelle femministe che pensano che l'emancipazione della donna debba corrispondere all'omologazione al modello maschile al modello dominante e e che appunto pongono la questione del femminile sul terreno esclusivo della parità terreno fondamentale ma non esclusivo perché nell'ecofeminismo o nel femminismo materialista il problema non è solo ovviamente quello della parità posto fra l'altro da tutte le straordinarie donne del movimento socialista a cominciare da Rosa Luxemburg ma il problema è anche quello del cambiamento del cambiamento del mondo cioè il femminismo il femminismo materialista pretende di portare idee per un nuovo mondo un mondo possibile e quali sono queste nuove idee intanto proprio questo rapporto con la natura questo sentirsi sentire dentro di sé la natura e la vita sentire che nella nascita nel dare nascita c'è una potenza vitale che coinvolge chi dà la nascita ma anche tutti gli esseri sentire che quei mesi dell'attesa sono mesi di una temporalità nuova che rifondano il tempo in senso lento sentire che la sessualità non è una il demone no? la pulsione che tutto l'Occidente questo Occidente che non ha messo limiti alla pulsione di morte che invece ha messo tanti ostacoli tabù e pregiudizi alla pulsione erotica questo dire che il corpo il corpo la corporeità la sensualità l'espressione dei sensi nella loro magnificenza e questo dire che questi sensi sono in un legame con i ritmi cosmici perché è un fatto che 28 giorni durano i mestrui quanto le fasi lunari e quanto le maree e questa idea che può sembrare ed è per molti versi un'idea magica che diciamo l'antropologia studia bene è anche un'idea profondamente scientifica questa idea che il naturalismo rinascimentale ci ha consegnato e che ci sono ancora strani legami tutti da indagare fra il microcosmo e il macrocosmo fra l'individuo e il cosmo è un'idea poi che sta anche alla base dell'ecologia scientifica la quale ci dice che noi non siamo angeli ma siamo figli della natura figli non solo perché lo dicono i miti lo dicono le immagini lo dicono le fiamme ma perché siamo figli di un processo evolutivo siamo figli di un'intelligenza che è l'intelligenza dell'evoluzione e che la natura ha in sé una mente che è una mente matriciale una mente nutritiva una mente generosa che dà vita dà appartenenza dà solidità che siamo figli della terra e ancora di più siamo fatti della stessa materia cosmica posso citare una serie di autori da Batson all'Oveloch che non a caso usa un'immagine femminile l'antica dea della terra Gaia per dire questa unità evolutiva che circonda le specie viventi e che fa anche diciamo che adotta anche un principio non solo il principio di unità microcosmo e macrocosmo ma anche il principio di metamorfosi per cui come negli antichi poeti come diceva Empedocle io posso essere fanciulla e ragazzo e pesce volante stella esattamente come dice Batson il granchio e l'ara gross il senato americano e tutti con me e quindi questo principio della unità e dell'armonia naturale e del fatto che la femminilità coincide anche a una sorta di femminilità della materia in quanto la materia è nutrice intelligente madre è un'idea che può essere che è un'idea che è il femminismo ecologico propone ma la critica al patriarcato in realtà dice una grande filosofa che forse femminista non è ma che certo è molto cara alle femministe molto cara a me e a Narendt e lei fa un'analisi ancora più raffinata del patriarcato che può essere usata per l'ecofeminismo lei dice il patriarcato non è solo quel sistema violento per cui il padre consegna al figlio maschio sapere e potere ma il patriarcato è anche una forma di violenza inaudita del vecchio contro il giovane analizzando tutti i miti del patriarcato fra cui la guerra che è un mito del patriarcato è come una specie di vendetta che il vecchio si apprende rispetto al giovane il patriarcato essendo essenzialmente un sistema conservativo non vuole il nuovo non vuole la nascita non dice il nuovo non vuole la nascita e lei in questa nascita ci mette il nuovo nato l'arrivante cioè lo straniero e ci mette la fiusis è cara è caro il lavoro delle etimologie all'Arend la fiusis in greco è proprio ciò che nasce questo lo dice anche Aristotele è la pianta che nasce ma in genere in forma più larga è tutto ciò che viene alla luce dall'oscurità è tutto ciò che nasce quindi il patriarcato ferma il nuovo nel senso di ciò che la vita ti propone come nuovo invece nel gesto ecofeminista materno a questo punto materno sia per le donne che per gli uomini c'è l'accoglienza della vita di ciò che è nuovo di ciò che arriva e quindi qual è la ovvia conclusione per me dell'ecofeminismo una conclusione che mi ha lasciato che è ovvia per me e che mi lascia estrefatta rispetto a quello che è successo per esempio negli ultimi anni nell'ultimo anno quando ho visto illustri femministe occidentali se ho un altro minuto voglio prima di concludere voglio dire perché occidentali vai vai io ce l'ho un altro minuto anche qui c'è una differenza fra l'occidente e gli altri mondi le donne in occidente giustamente ripeto giustamente non voglio essere fraintesa dalle compagne dalle sorelle lavorano soprattutto per i diritti individuali per l'affermazione dei diritti individuali compreso il diritto di occupare posizioni alte di sapere e di potere le donne che io ho conosciuto quando sono andata al vertice internazionale nei miei viaggi in Africa eccetera lottano per altre cose lottano Marina Silva si abbraccia agli alberi per non far tagliare le foreste Vandana Shiva lo sappiamo lotta per contro l'appropriazione dei pozzi dell'acqua contro le righe le custodia della semia in America Latina lottano per le banche dei semi dei geni contro la biopirateria e le campesini dei movimenti senza terra lottano per la riappropriazione della terra cioè il movimento femminista di altri mondi è orientato verso la difesa non solo di diritti individuali ma di diritti di beni comuni questo invece il femminismo occidentale di cui io sono rispetto al quale nell'ultimo anno io sono rimasta abbastanza così stupefatto di alcune posizioni anche di illustri teoriche del femminismo penso a rosi braidotti che si sono schierate a favore della guerra ecco io penso invece che qui in questo legame fra la materia fra il materialismo nel senso della materia della sensualità della corporeità ma soprattutto della matrice materna che il nuovo mondo deve avere per uomini e per donne penso che la necessaria evoluzione dell'ecofeminismo deve essere sempre sempre il no alla guerra ho già citato in un altro convegno non mi voglio ripetere il gesto di Ecuba c'è una genealogia di nell'ecofeminismo c'è la genealogia di Ecuba cioè che è la genealogia della vita contro la morte la madre che dice a Ettore figlio mio non partire non andare a far l'eroe perché se no la distruzione tua è sicura ma anche la distruzione di Troia e di tutto quello che è intorno a Troia gli affetti le bellezze il paesaggio la terra che parti a fare per andare a fare la guerra e lui vuole partire perché è un eroe perché nel patriarcato nel mito del patriarcato ci sono gli eroi e allora la madre tenta un gesto impossibile quello appunto di scoprirsi il seno per dire figlio questo seno che ti ha dato la vita questo seno che materia che corporeità tu non lo puoi negare dandoti la morte o dando agli altri la morte grazie Laura bellissima lezione allora chi vuole intervenire può può schiacciare sì meritato applauso non possiamo applaudire purtroppo da lontano chi vuole chi vuole può alzare la mano e schiacciare il tasto con cui attiva l'audio e interviene Elena Gagliasso vedo sì allora intanto volevo ringraziarti moltissimo è stata una presentazione ho preso tantissimi appunti veramente bella volevo solo aggiungere una cosa ci sono due autrici che forse conoscerai ma che vorrei nominare intanto Caroline Merchant La morte della natura e la cosa interessante che è stata ripubblicata adesso nel 2021 o 2022 con un'introduzione diversa non più quella di Elisabetta Donini quella di Paolo Savoia ed è interessante a mio parere confrontare anche le due introduzioni perché quella di tanti anni fa di Elisabetta era più diciamo portava di più la dimensione proprio della dell'ideologia femminista calata nell'ecologia e questa di questo giovane storico è più distaccata più attenta a un'osservazione di quelle che sono state le dinamiche anche dell'ecofeminismo ma anche molto dell'ambientalismo e l'altro libro il titolo esatto non me lo ricordo ma dovrebbe essere storia dell'ambientalismo dell'ambientalismo di un'importante storica femminista dell'ambientalismo che è Stefania Barca che insegna teorie ecologiche a Coimbra a Coimbra a Coimbra esatto lo so che sapete però sì magari non tu lo sai ma magari non tutti quanti ecco ed è molto brava noi l'abbiamo invitata molte volte è interessante e e ha una posizione se posso dire da un lato marxista molto simile alla tua che riprende proprio il Marx dei manoscritti e contemporaneamente con una preparazione molto accurata delle due facce dell'ecologia quella politica dei protocolli e così via e quella anche biologico-scientifica ecco che è in fondo la parte che a me interessa anche molto nel senso che poi è vero questa dimensione il vostro libro quello che citavi prima io lo scusa l'ecofeminismo in Italia le radici di una rivoluzione necessaria l'avevo anche presentato non mi ricordo più chi o dove come però è documentatissimo mentre invece non sapevo che era uscito questo di Françoise de Bon di nuovo pubblicato poi di cose ce ne sarebbero da dire tantissime però voglio lasciare anche a tutti gli altri di partecipare queste sono solo due annotazioni e ti ringrazio perché hai fatto un affresco estremamente estremamente congruente poi in cui le cose si tengono tutte ecco grazie grazie Nicoletta mi unisco anch'io ai ringraziamenti è stato un piacere ascoltarti e soprattutto condividere questo spazio così necessario quindi complimenti e grazie anche a chi l'ha organizzato ma io soltanto una breve riflessione a proposito di quest'ultimo punto sull'ecofeminismo e praticamente mi è venuto in mente il parallelismo tra lo sfruttamento che il capitalismo e il neocolonialismo stanno mettendo in pratica nei paesi del sud globale in termini di sfruttamento delle risorse quindi questo parallelismo tra l'appropriarsi di terre territori e corpi perché sostanzialmente le ricadute le vediamo proprio anche fisicamente non lo so io solo per portare un esempio molto grafico quello che sta succedendo con il sistema alimentare con l'espansione della frontiera agricola della soia soprattutto sia in Brasile che in Argentina e ovviamente lì è molto evidente come si intrecino insomma i due i due sistemi colonialismo e capitalismo che stanno praticamente distruggendo un intero ecosistema e lo stanno facendo per di più con agrotossici che quindi oltre ad avere effetti negativi per la terra e il territorio e ovviamente ce l'hanno per le persone che vivono qui ci sono dei dati che ci dicono che per ogni per ogni persona in Argentina piovono praticamente più di undici litri di glifosato e quindi per tornare a quello che dicevi tu dell'ecofemminismo invece vedere come all'opposto ci sono queste persone soprattutto donne e che mentre il capitalismo lotta per appropriarsi di queste chiamiamole risorse naturali loro invece lottano per riappropriarsi dei beni comuni o collettivi come spazio per la vita lo spazio di cui hanno bisogno per vivere naturalmente secondo diciamo il modo ancestrale soprattutto se penso alle comunità indigene insomma contadine che c'erano prima dell'arrivo degli spagnoli o insomma del portogallo e quindi insomma sempre una ferita aperta e poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è come paradossalmente adesso siamo costretti a scegliere tra il diritto all'alimentazione e invece la vulnerazione di tutti gli altri diritti per queste persone che stanno sostanzialmente producendo le materie prime necessarie al nostro sistema alimentare o al alimentare o meglio al sistema alimentare industriale che è quello poi dominante grazie Nicoletta Raul grazie intanto anch'io condivido i ringraziamenti per questa lezione bellissima e insomma non la faccio lunga per ringraziamenti ce l'aspettavamo ed è stata come ce l'avremmo immaginata io voglio sollevare o tornare su un punto solo che a me però sembra cruciale cioè quello che Laura ha detto a proposito del concetto di lavoro che lei ha definito se io ho sentito bene ma se ho sentito bene sono d'accordo è un concetto ebraico di lavoro che fa risalire in qualche modo alla Bibbia ora non c'è dubbio che lì c'è l'idea del dominio affidò all'uomo affinché lo dominasse però appunto sono andato a vedere in Genesi c'è leggiatito dell'Edel perché lo coltivasse e lo custodisse quindi c'è un rapporto che non è necessariamente distruttivo ora la domanda è questa si può veramente pensare a un rapporto con la natura come un laissez-faire della natura oppure questo conflitto che per ora è anche collaborazione fra l'uomo e la natura è una cosa che da cui non si può prescindere del nostro concetto di uomo no? per due motivi appunto perché questo modificare intervenire utilizzare coltivare e custodire diciamo la natura è ciò che permette la vita dell'uomo secondo perché in realtà è attraverso il lavoro che si costituisce anche la socialità dell'uomo cioè l'umanità sta insieme perché lavora insieme e quindi a me sembra che questo concetto di lavoro non è possibile liquidarlo come una hubris riguardo della natura grazie Piero posso rispondere ora e poi facciamo le altre domande perché sennò diventa ma certo io preferisco così è più vivace lo scambio immediato anziché accumulare poi magari un paio di domande simili si possono accumulare ma è meglio il botta e risposta lo trovo più vivace vai dunque rispondo prima l'ultima rispondo cioè non rispondo ovviamente insomma ci deve essere parto da questo esempio io amo molto Maria Montessori però quando faceva gli orti Maria Montessori gli faceva tutti squadrati tutti ordinati perché doveva dare un'idea di ordine perché c'è anche un'ecopedagogia doveva dare un ordine ai bambinetti ora in questi orti non c'erano le specie selvatiche in un orto non c'è la specie selvatica nel giardino sì il giardino non è un orto il giardino dell'Eden era il giardino delle specie selvatiche e cosa dice il dio della parola all'uomo maschio a sua immagine e somiglianza coltiva rieduca le specie selvatiche ora io non so se questo sia il destino dell'uomo dell'umanità certo così gli ha consegnato il dovere del lavoro cioè il dovere della trasformazione di tutto però così ha diciamo annullato il diritto delle specie selvatiche degli esseri selvatici allora ci deve essere un come li chiama Claude Lévi-Strauss li chiama dei parchi i parchi i parchi riservati in cui la specie selvatica il selvatico la naturalità possa rimanere non trasformata e questo vale per i paesaggi che hanno diritto alla wildness cioè al deserto hanno diritto al vuoto hanno diritto a non essere tutti riempiti magari anche se di verde attrezzato il verde attrezzato non è la natura il verde attrezzato è la l'addomesticamento l'umanizzazione la trasformazione della natura ma noi abbiamo bisogno ancora del deserto della natura dei grandi spazi non umanizzati e abbiamo bisogno anche per la parte di natura che è dentro di noi e perché noi siamo natura siamo istinti tutti gli istinti vanno educati governati trasformati lavorati certo molti vanno governati perché se io ho l'istinto cannibalico non è che se mi mangio la vecchietta vicino di casa non è ben educato ma gli istinti ci sono e e certe volte bisogna lasciarli essere la ghelasena di lasciamo essere alcune cose perché la natura vuole la natura è anche questo e questa idea forse si trova anche in Marx forse perché quando Marx fa la differenza fra che la lingua tedesca ci consente fra Arbeit e Werke sa bene che c'è cioè fra il lavoro alienato tristemente richiamato poi nei campi di concentramento come nobiltà dell'uomo ma che nobiltà questo lavoro continuo alienato che trasforma tutto che poi è anche precursore della tecnologia di cui i nazisti si freggiavano e poi il Werke che è un'altra cosa è il lavoro creativo un lavoro che assomiglia anche al gioco il lavoro della utopia del naturalismo compiuto di Marx che in un passo bellissimo dice come sarà l'uomo del futuro e l'uomo del futuro non sarà l'uomo che lavora sarà l'uomo cacciatore pensatore pastore critico critico cioè sarà un uomo che gioca non solo che lavora un uomo che non ha il tempo libero ma il tempo liberato e quindi nel tempo liberato ci può essere anche il nulla fare il nulla fare guarda questo questa idea del nulla fare del non far nulla no e il cuore di un libro che secondo me gli ecologisti devono leggere come la Bibbia che l'Emilio di Russo l'Emilio ci sono dei passi interi in cui Russo rivendica il non far niente dal punto di vista della crescita naturale l'educazione naturale ecco anche l'educazione può essere considerata un lavoro e noi sicuramente trattiamo cioè ci sforziamo nel riempire ecco la vita del bambino dell'adolescente facendoli fare un mare di cose che occupino in maniera produttiva il suo tempo eppure Russo nell'Emilio che è il grande manifesto dell'educazione naturale insiste invece sul lasciare essere sul perdere il tempo cioè un passo in cui dice esplicitamente che la perdita del tempo che poi è la contemplazione è il momento della contemplazione non tutto può essere azione e non tutto deve essere trasformazione perché invece c'è una parte che poi è la parte migliore della nostra vita perché è la parte del gioco appunto la parte della poesia la parte dell'immaginazione la parte della filosofia che è il nulla fare dice nella storia della filosofia non mi viene in questo momento chi erano i filosofi ad Atene andavano al mercato e tutti avevano qualche cosa da fare da comprare cioè i filosofi erano quelli che non avevano nulla da fare e perciò inventarono la filosofia e anche un modo di stare al mondo questo pensare che non tutto è fatto per me e nemmeno per la mia custodia no che le cose appunto come dicevo prima hanno un diritto all'infunzionalità che le tutela le tutela nel loro valore intrinseco e anche nella loro magia il il marxismo prevede solo due valori il valore d'uso e il valore di scambio la mia scienza che è l'antropologia prevede anche il valore simbolico il valore magico delle cose ma su quel valore si fra l'altro tutta la nostra società è diventata simbolica e quindi forse un po' di ragione ce l'ha l'antropologia questo valore simbolico costituisce quel mana quella quell'aura diciamolo con i termini di un marxista come Benian quell'aura che fa sì che le cose non siano riproducibili e non siano manipolabili se posso dare anche diciamo soprattutto alla grazie per le indicazioni delle due studiose che hanno parlato il libro della Merchant mi è molto caro l'altro non lo conosco lo leggerò ed è importante un'idea che della Merchant oltre quelle che tu sottolineavi cioè che non solo ci deve essere un ecofeminismo ma che non ci può essere nessun movimento ecologico che non sia femminista proprio per questo rapporto di coincidenza fra la morte della natura e la morte della femminilità e se posso vorrei essere più chiara rispetto a un passo che per me è fondamentale ma su cui mi rendo conto retrospettivamente di essere stato un po' confuso cioè come l'ecofeminismo possa essere una visione complessiva che addirittura riscrive perfino diciamo gli assunti amministrativi ho appena pubblicato pubblicato l'anno scorso un libretto per una bella casa editrice diretta da un ecologista che è Paolo Cacciari il fratello intelligente di Massimo uno dei primi ecologisti e fra l'altro diciamo uno un compagno che si è battuto si è battuto molto sulla non violenza e su tante tematiche interessantissime dell'ecologismo questo libretto che ho pubblicato ha il titolo di Matria che è un neologismo una parola riparatrice come dico nel sottotitolo ecco il patriarcato ha enfatizzato il concetto di patria che viene da pater e che viene da dio dal dio maschio lo dice Hegel lo stato il patriarcato è il dio sulla terra la visione femminista ecofeminista riscrive questo concetto di patria questo concetto che disegna un'appartenenza entro confini entro uno spezzettamento della madre terra in confini muri torri territoriali che corrispondono più o meno agli stati lo riscrive con una nuova parola che è una parola che è la lingua tedesca in tedesco in tedesco ci sono due modi per dire la patria no paterland è la terra dei padri cioè lo stato poi con l'elmetto con i confini con l'unica moneta con gli eserciti e poi Heimat che è una parola femminile materna perché viene da Heim la casa e quindi l'idea di una patria di una matria che non è il territorio che tu difendi anche con le armi ma come dice il dizionario della lingua tedesca è un luogo dove tu ti senti come a casa e quindi è il luogo dei tuoi affetti è la cucina della nonna è la piazzetta è la panchina dove ti sei dato il primo bacio è la piazzetta del paese dove hai imparato a far politica sono i tuoi affetti i tuoi amici sono i tuoi studenti è la tua lingua la lingua questa è la matria la patria e qui una scrittrice che non è ecofeminista ma è sicuramente femminista usa un'espressione bellissima la lingua latte la lingua materna la lingua della matria è la lingua che noi abbiamo imparato dalla madre questo lo dico alle amiche femministe che si strappano i capelli su il lo con eccetera se dobbiamo dire il presidente non dobbiamo dimenticare che tutta la lingua è femminile e che la madre nel momento in cui ti nutre come il latte ti dà anche una lingua che una lingua naturale cioè una lingua che tu non impari a scuola ma la impari naturalmente dalla voce di tua madre la lingua latte ecco questa idea è un'idea femminista ma è un'idea anche profondamente ecologista grazie ora io ho tre persone poi ti darei la parola per chiudere ti chiederei di stare dentro le otto meno un quarto perché io sono ospite e devo purtroppo rispettare i tempi la prima non so il nome perché mi appare come il nome iphone paolo no iphone di admin la laura cima guarda sono io ho preso un mio vecchio iphone perché ho l'altro occupato scusate intanto anche io voglio ringraziare tanto laura perché veramente in particolare per la parte sull'ecofemminismo mi sembra fondamentale approfondire io devo dire che siamo in una giornata che ormai è quella che tutto il mondo ricorda per la violenza sulle donne io ho seguito stamattina con molta attenzione il dibattito al senato meglio devo dire di quello della camera e francamente sono però un po' triste perché queste belle cose che ci diciamo qua non esistono nella nelle istituzioni e questo è uno scollamento tra tante cose non posso approfondire però forse dovremmo approfondire perché in realtà l'attualità del disertare il patriarcato come noi abbiamo scritto nel nostro decalogo come ricordava Laura che abbiamo mandato a tutte le persone che stavano in campagna elettorale è proprio questo scopo disertare il patriarcato disertare la guerra vuol dire disertare la violenza vuol dire la non violenza ma vuol dire anche come diceva adesso nell'ultimo intervento Laura vuol dire un linguaggio materno che è quello del corpo cioè la lingua latte è la lingua del corpo è l'emotività è la empatia è tutto il contrario di quello su cui si basa la politica in particolare la politica istituzionale perché quella dei movimenti un pochino più di emotività ce l'ha ma pensate quanto emotività hanno le donne ma tutti quelli che si stanno giocando la vita e la libertà in Iran contro la teocrazia e anche qua bisognerebbe tirare in ballo le religioni non solo il marxismo perché credo che sia fondamentale risalire che cosa hanno fatto le religioni monoteiste però voglio solo ricordare Elena Pulcini che purtroppo ci ha il covid e ci ha portato via leggete i suoi libri sull'invidia sulle passioni positive su tutto quello che è appunto un linguaggio ecofeminista lei è stata un ecofeminista fondamentale ha lavorato anche a livello internazionale il manifesto dei convivialisti ha scritto la premessa e non posso parlarne però varrebbe la pena riprendere tutta una serie di temi che qua sono stati appena accennati perché sono veramente la possibilità di andare avanti politicamente altrimenti ripetiamo schemi novocenteschi che ormai non servono più a interpretare la realtà di oggi comunque grazie ancora Laura e a tutti voi grazie grazie a te e della tua presenza che ci inorgoglisce come mi prendono le parti di Piero e do la parola a grazia Striccioli grazie ti sentiamo molto lontana eh sì io purtroppo riuscite a sentirmi? sì sì prego sì magari avvicino eh volevo ringraziare Laura che come sempre vabbè straordinaria speciale è stata la mia maestra in ogni senso è una donna mi blocco perché sennò andrei troppo e grazie a tutti voi anche per questo impegno che avete assunto perché è veramente un bellissimo momento formativo ho ascoltato gli altri e spero appunto di poter ascoltare ancora quelli che per Laura delle delle che volevo condividere con te mi sentite? sì sì non ti vediamo sì perché sono in macchina mi dovete scusare ma devo ricavarmi questi questi momenti nelle maniere più disparate bene Laura la il discorso sulla natura mi sembra che in maniera eccessiva come dire tu la assolutizzi nel binarismo etero e cisgender ho questa sensazione ma insomma si evince chiaramente ovviamente questo va un po' in rotta di collisione con quel nuovo femminismo che è transfeminista che è intersezionale quindi volevo sentire il tuo punto di vista rispetto a queste tematiche e poi un'altra cosa il patriarcato e il matriarcato cioè sostituire poi il rischio è che il tuo libro è splendido lo abbiamo commentato insieme insomma l'abbiamo letto ma come dire se distruggiamo il patriarcato il rischio non è poi di assolutizzare il matriarcato che ci può anche star bene però è una forma di violenza anche quella e poi un'altra un'altra domanda è questa rispetto alla materialità la naturalità è fatta anche non è soltanto come dire fatta di cose belle di sensazioni di esperienze sublimi che ti fanno star bene c'è anche la violenza nell'ontologia nell'esserci c'è la violenza come si coniuga questa violenza la violenza della natura perché la natura è anche è anche violenza con quella che poi dovrebbe essere appunto l'etica cioè come come si può intervenire attraverso l'etica poi sulla natura e mi taccio e vi chiedo scusa e vi ringrazio grazie Laura grazie a te Enzo Scandurra per l'ultima sì brevissimo io non sarei voluto mancare per nessun motivo questa riflessione bellissima di Laura insomma nel senso che è stata ancora più bella di quanto mi aspettassi che era già il massimo mi accorgo che oltre a Raul sono l'altro uomo l'unico uomo a parlare evidentemente questa riflessione di Laura ci ha messo in imbarazzo voglio dire noi uomini perché è difficile come dire è difficile contestare ecco questo discorso però aggiungo una cosa che Laura conosce benissimo sulla quale tornerò quando sarà il mio turno di fare la lezione e cioè il ruolo della scienza il ruolo della scienza che è un ruolo maschilista voglio dire nel senso in tutta la rivoluzione industriale nasce proprio come dominio sulla natura c'è solo Bacone che non era un grande scienziato ma più che altro una specie di imbroglioncello però diceva che la natura era come una prostituta bisogna conoscerla e dominarla e questo voglio dire la dice lunga su un pensiero non così fortunatamente non così pesante come quello che diceva Bacone ma sicuramente molto molto vicino a questo dominio ecco mi chiedo se questo non è anche un atteggiamento un aspetto del patriarcato di cui parlava Laura nel senso che non ci sono state donne a partire dalla rivoluzione scientifica del seicento non ci sono state quasi donne scienziate se non arrivando ecco ai primi anni del novecento dove hanno cominciato voglio dire a esserci delle donne importanti nella scienza ma voglio dire in tutto questo periodo dal seicento al novecento voglio dire non ci sono quasi state donne ecco questo tutto qui grazie grazie Laura grazie Enzo e do la parola a Laura e poi Piero per eventualmente per i saluti brevemente non ci sono state parto dall'ultima donne nella scienza ma c'è stata una donna una romanziera che ha capito perfettamente forse qual è il retropensiero della scienza o il retroinconscio della scienza mi riferisco al Frankenstein di Mary Shelley lei ha capito qual è la pulsione della scienza una maternità surrogata cioè che cosa vuole fare Frankenstein vuole il dottore non non la creatura vuole costruire quello che adesso la tecnologia sta facendo un mondo non contro natura ma un mondo senza natura questo è il grande sogno contemporaneo cioè non si tratta più solo di distruggere devastare abusare eccetera della natura ma si tratta di dire anche attraverso una campagna di comunicazione formidabile che il mare finto dei giapponesi è meglio del mare vero che invece che andare a Pasquetta sui prati si può andare a Oshan perché lì nel centro commerciale hanno riprodotto perfettamente le condizioni climatiche di una natura idealizzata che i bambini nati in laboratorio che i bambini possono essere fatti in laboratorio no? magari con l'utero di cui parlava già Aristotele della donna che è solo un utero possono essere fatti in laboratorio a prescindere dalla naturalità dalla sessualità che le mele OGM sono meglio che il grano terminator OGM quello che affano i campesinos è meglio del grano vero cioè un mondo perché il rischio secondo me grave è che noi la natura la leggeremo solo nei libri dei poeti e questo grazie alla tecnologia che sta facendo un raddoppio del mondo una continua artificializzazione del mondo naturalmente il tema è lunghissimo quindi mi scuso per la banalità della risposta su matriarcato e patriarcato ma io non mi sono sognata di dire che dobbiamo la critica al patriarcato deve prefigurare una società matriarcale per carità a parte il fatto che come sanno tanti antropologhe i damagli il matriarcato non è mai insistito non è mai insistito un potere delle donne esisteva una società simbolicamente fondata su per esempio sulla dea su miti femminili su sapienze femminili ma un potere giuridico fondato sulle donne non è mai assistito in nessuna epoca storica e spero che non esisti neanche in futuro ed è proprio qui che mirava il mio discorso critico contro le femministe in gilè che a una società patriarcale fondata sulla violenza sulla gerarchia e sul potere vogliono sostituire una società matriarcale fondata non sul potere del padre ma sul potere di una madre che è esattamente come il padre non è questo il mondo che vorremmo è un mondo in cui stiano è un mondo senza violenza è un mondo non violento perché il patriarcato uccide i giovani uccide i giovani vittime del patriarcato sono anche i maschi gentili diciamo così i maschi che non si conformano alla violenza del che il patriarcato impone all'uomo maschio quindi però la società matriarcale matriarcale simbolica per esempio quella descritta da Bakofen era che era un giurista e che era anche uno che ha fatto ricerche sul campo attraverso l'archeologia era una società profondamente legata alla natura e queste divinità non erano donne erano l'acqua era la terra era la luna no? Iside e i miti servivano a proteggerle in mancanza di leggi ambientali mettere una divinità in un fiume lo fanno ancora in Africa ma mi vada in tutti i fiumi no? Mettere una divinità in un fiume significa non inquinarlo quel fiume caricare di simboli caricare di sacralità caricare di la natura non significa esotizzarla significa in qualche modo proteggerla attraverso il simbolico l'ultima cosa volevo dire a grazia la madre e quindi il matriarcato come la natura non è buona questo nell'estetismo romantico e anche in certi ecologisti nostri per esempio quelli che hanno messo in Trentino l'orsa nel no? è nota la vicenda hanno messo l'orsa l'orsa quando è andato l'uomo l'ha graffiato e gli ha fatto male è certo perché l'orsa non è l'orso yogi l'orsa è l'orsa ha degli istinti animali è un animale non tutti gli animali si possono addomesticare come facciamo noi con i cani giocattolo che usiamo nei nostri salotti facendogli del male quando li teniamo nei salotti cioè la natura è né buona né cattiva la natura ha aggressività la natura ha morte come ha vita e questo avviene anche nella madre e anche nel matriarcato in Italia meridionale c'è un matriarcato cattivo molto forte ricorderete il delitto di Avetrano c'è un matriarcato che si rivolge contro la donna giovane durante l'emigrazione questo matriarcato cattivo ha giocato molto sul fatto che gli uomini andavano via la giovane sposa rimaneva con la sua oceano con la madre e questo quindi lungi da me pensare a una società matriarcale ma una società in cui il punto di vista naturale femminile anzi il punto di vista della vita diciamo così della danza della vita possa rigovernare il mondo della violenza credo che questo sia un'utopia e non solo un'utopia una concretezza per cui dobbiamo lavorare grazie grazie davvero tanto Piero va bene no io ti lascerei libero perché dovrei fare un intervento piuttosto lungo a sostegno naturalmente di quanto di quanto diceva diceva Laura soprattutto a proposito del ruolo del marxismo ci sono cinque minuti Roberto sì sì prego c'è un libro che io continuo a citare di un studioso tedesco Hans Himmler il Salac Nature in the Economist in the Theory il quale libro ricostruisce la vicenda attraverso cui la natura è stata espunta dal pensiero economico parte da Aristotele con una documentazione di prima mano davvero impressionante arriva arriva Marx e immette il marxismo all'interno delle teorie economiche che hanno espunto la natura dalla propria orizzonte naturalmente salva Marx nessuno di noi dimentica che Marx sostiene che la ricchezza è lo scambio organico tra l'uomo e la natura e ci sono tutte le opere giovanile e così via e ci sono anche nel terzo libro del capitale delle riflessioni sulla sulla natura nel suo complesso di straordinaria attualità però il marxismo siccome è una teoria rivoluzionaria mette in evidenza attraverso il plusvalore il carattere di sfruttamento del lavoro capitalistico la ricchezza nasce dall'estrazione di plusvalore assoluto e poi relativo è una teoria rivoluzionaria che naturalmente è stata trasformata dai marxisti dalla tradizione in una teoria dello sviluppo ancora oggi il marxismo è scomparso nella sua potenza di teoria conflittuale rivoluzionaria e si limita ad essere una teoria dello sviluppo che i nostri sindacati alla nostra CGL i cosiddetti partiti di centro-sinistra hanno dimenticato il massimo ma tengono in piedi questa ideologia dello sviluppo come prosecuzione di un processo di continua di continuo miglioramento della realtà allora detto questo io volevo chiedere a Laura ma sicuramente lei non avrà il tempo di rispondermi c'è un nodo che pure un atteggiamento diciamo così così lontano e così insensibile nei confronti dei problemi ambientali potrebbe affrontare e non affronta ed è il lavoro gratuito della donna all'interno della casa la donna prepara il maschio oltre che se stesso spesso con il lavoro domestico l'allevamento dei figli la cucina eccetera lo prepara per lo sfruttamento in fabbrica o in ufficio è tutto il lavoro nascosto preparatorio prima dello sfruttamento capitalistico propriamente inteso è una fascia oscura nascosta dello sfruttamento gestito patito interamente dalla donna di cui le femministe non si fanno carico eppure davvero almeno monetizzare questo questo lavoro sarebbe importante per restituire un minimo di equilibrio un minimo di smussamento delle disuguaglianze che lacerano la società del nostro tema dopodiché chiudo ringraziando davvero tanto Laura per questa magnifica lezione che rende questa scuola davvero posso dirlo diciamo di altissimo livello e vi ricordo che la lezione verrà registrata ci pensa ci pensa Roberto e potrà essere occasione di diffusione di discussione all'interno di comunità di comunità di studio un appuntamento al ma poi lascio la parola a Laura un appuntamento a giovedì prossimo primo dicembre con la lezione del professor Maurizio Franzini un economista dell'università di Roma la sapienza che affronterà il tema le disuguaglianze che bloccano l'economia grazie Laura grazie Roberto grazie Laura no intanto visto che questo tema del femminismo dell'ecofeminismo è un tema intrigante forse forse anzi credo che potremmo invitare Laura Cima in una delle prossime lezioni ad approfondire questa tematica ne saremmo tutti e io non solo ti do ragione Piero ma credo che questa situazione si sia aggravata e con una una capacità retorica il potere diciamo così se possiamo ancora utilizzare questa parola il potere ci dice ci dà un nuovo valore la cura la cura e noi ci compiacciamo di questa parola che è la cura senza pensare che per esempio durante la pandemia cioè la crisi non ho tempo qui per per dire la crisi del welfare sposta sulla donna tutte le funzioni che lo stato sociale non fa più quindi assistere i vecchi assistere i malati eccetera e quindi questa questo rirubricare il lavoro domestico come lavoro e non come cura mi sembra indispensabile però un mio maestro che si chiama Piero Bevilacqua in un libro bellissimo Felicità d'Italia che dovete leggere dice una cosa a proposito delle donne della cucina e ci fa notare intanto come tutti come sulla cucina è avvenuto l'ultimo esproprio del sapere femminile intanto perché tutti questi chef tutti sono tutti maschi ma ricorda come la cucina sia legata non solo a una conoscenza profonda perché la cucina è sapienza sono erbe che si conoscono le coltivatrici le raccoglitrici ma la cucina è anche legata alla gratuità allo scambio affettivo al dire che la mia famiglia non è quella del certificato la mia famiglia sono tutte le persone che si trovano intorno a un tavolo con me e a cui io do ecco cibo ma do anche messaggi se non se possiamo dirlo di felicità e di amore no e quindi c'è anche un carattere di gratuità nel lavoro femminile che speriamo rimanga vi saluto vi ringrazio tutti grazie grazie a te di non essere stata troppo emozionata perché il pubblico era veramente di altissimo profilo e quindi ricordo ricordo come ha detto Piero che noi abbiamo registrato questa poi trovate questa come le altre che abbiamo già fatto sul sito di Transform abbiamo dedicato una pagina apposta alla scuola e poi faremo girare i link vi ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato e ringrazio Piero e soprattutto Laura perché veramente è stata una magnifica lezione mi congratulo grazie ancora arrivederci a tutti grazie 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 buona serata grazie 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 grazie